ben tornati da play in questo nuovo video oggi siamo su clash of clans e oggi mi sono fatto un villaggio schifosissimo ma soltanto schifo si vedete è bruttissimo e ci sto giocando per pc e non mi ricordo più i tasti qui scudiamo ciao no no sto registro grazie francesco grazie francesco grazie francesco Un sacco di soldi e i soldi non lo mettiamo qua, un bel po' di amici, undici amici. Qua facciamo altri, un bel po' di amici. Un altro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Andiamo a giocare. Trovo una partita assi. No, su qua c'è il mortaglio, no, cerchiamo. Cerchiamo avversari. Scusa. Che nebbe bello. Un cannone. Un cannone non ce l'ha. No, un cannone. Un cannone. Un cannone. Un cannone. Un cannone. Ok, adesso possiamo dire che abbiamo vinto completamente la partita. Un cannone. Un cannone che il puerto. no 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 Bocchi... 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 Passerlo in the world... Bocchi... Bocchi... Bocchi! Bocchi... Bocchi! Oh... baby... quando finisce di attacare ragazzi ahhhh ahhhh comunque sono Crash Royale i bauli si stanno vabbè i bauli si stanno quasi a prenderli diciamo alleniamo troppeeeeee ah per avere lui il gigante insieme nooo nooo voglio mettere qualche cosa altri cannoni un mortaio ci arriva a prendere il mortaio wow è questo tanto va bene abbiamo 230 livello 5 grazie un youtuber è a livello 89 quasi a livello 100 gli ho messo qua delle bombe ditemi il perchè non ditemi il perchè l'ho messo non lo dite non lo dite non lo dite c'è qualcosa a livello 5 che posso prendere da 10 secondi da 10 secondi questo devo prenderlo ahhh uno di questo un bandiera ma ciao ma le torcia cosa servono? ahhh sono le nuove truppe il bocciatore il bocciatore il bocciatore è un bocciatore ma c'è qui non c'è niente yeee voglio il pecca ahhh ahhh a livello 5 all'oro wow io mi ricordo che una volta sono arrivato a livello 8 avevo questo con il telefono mamma mia quando quando ho avuto una volta il pecca adesso avevo buttato la finestra che figo ta ta esce proprio fuori esce pecca a livello 1 e grazie ne ho potenziato due giorni una settimana una settimana una settimana per questo perché per questo non siete pazzi grazie una e l'altra grazie wow un bel oggetto vai facciamo un bel po' di barbari 20 barbari 20 barbari 20 barbari 20 barbari un pochettino di questi perfetto è un pochettino andiamo a vedere visitiamo questo eeeh mamma mia livello 9 e questo è a livello 10 livello 9 il municipio a livello 9 ma questo qua tutto è a livello 9 livello 9 arcoizzi livello 3 torri dello stregono è a livello 7 mortaio livello 7 livello 11 no la caserma la caserma del pecca a livello 10 sono quelli che sono fatti di fuoco sono il mio mare se ce n'è uno che fa 6 ehhh 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 livello 1 e questo è livello 4 dai questa qua pure i goblin ma io pure c'è i goblin ma non è giusto io pure i goblin ok andiamo con tutti i nostri barbari a livello 2 oh no no aiutatemi giochi 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 no io questi qua li odio io trovo sempre una parte dove posso mettere almeno ditemi ho tutto qua ma ci sono delle parti dove io li posso mettere qui qua mi sembra mi sembra no guardate 1 2 andate male 1 2 5 5 5 5 e invece 5 5 ok non da derrubare per derrubare 5 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 6 7 8 9 10 10 9 10 12 to ole aspetta lo so io luca bello io allora 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 no dai un saluto da 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 nooo aaaaaaaaaaaaaaa bleh il pelo di riga la devo mettere qua il pelo di riga la mettiamo qui wow, una jade quello nero non so più tanto se fosse tanto credo per i pecca ma per il drago forse livello 8 livello 8 livello 8 per sbloccare sia lei sia lui voglio il reset riprendere il mago a livello 9 livello 9 il drago questo è cacolo dobbiamo fare pochino 1,14 e 6 di questo attacchiamo che cos'è a questo brutto, brutto, brutto sto avversario, brutto vediamo questo non c'hanno niente qui pizza perché qui c'è qui c'è un mortaio e un cannone e basta per difendersi allora non posso piazzare qui tanto qua però scemo perché ha lasciato il municipio così un minuto un minuto ok ragazzi abbiamo trovato nooo joffic scusatemi più caldo vai ah no scusate sbagliato la pizza qui è qui è è è qui è qui è qui è è qui è è qui è è giusto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per altri video a vostro pure clash of clans con i tre giochi con i tre video usciranno domani noi ci vediamo al prossimo video al prossimo video